Il 25 maggio del 1953 nasce a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano Gaetano Scirea, uno dei più grandi difensori nella storia del calcio, non solo italiano. Maestro di eleganza e correttezza, conquista la maglia azzurra a soli 22 anni, convocato da Fulvio Bernardini per l'amichevole contro la Grecia nel dicembre del 1975. Con Enzo Bearzot, Scirea diventa un punto fermo della nazionale, disputando tre mondiali ed un campionato europeo in 11 anni di straordinaria carriera azzurra. L'apice è successo in Spagna nel 1982, dove da assoluto protagonista, si laurea campione del mondo. In Messico, quattro anni dopo, guida la spedizione azzurra da capitano. Con l'eliminazione agli ottavi contro la Francia, si chiude anche la carriera di Scirea, all'età di 33 anni, dopo 78 presenze e due gol.